Nel cuore di Arezzo, qui la nuova sede del Corriere di Arezzo, una storia lunga, quasi 40 anni, manca poco. Sì, il Corriere di Arezzo è nato nell'aprile del 1985, quindi ci avviciniamo a questo importante traguardo. In questi giorni per noi è una grande ripartenza perché dopo due anni e mezzo, quindi dal periodo Covid in avanti, torniamo appunto, come dicevi, in città. Siamo stati gioco forza costretti a spostarci sulla nostra sede centrale del gruppo Corriere a Perugia. Abbiamo continuato comunque a presidiare la città e la provincia, ma adesso diciamo che è una cosa per noi importantissima essere di nuovo nel cuore della città, nel cuore di questa provincia. E come ha sottolineato in questi giorni il nostro direttore Sergio Casagrande, sono poche le città e le province che possono avere un loro giornale. Il Corriere di Arezzo quindi è un valore per tutta la comunità. Noi portiamo avanti questo lavoro di informazione, di comunicazione, nonostante le difficoltà che la carta ha, ma con una nuova forza, un nuovo vigore dato anche dal nostro editore Francesco Polidori che appunto crede in questo mezzo di comunicazione. Tant'è che eccoci di nuovo qui in città, il Corriere di Arezzo. Ecco, la redazione Luca sarà implementata ovviamente oltre ai colleghi storici, ci saranno poi degli innessi. Dunque in redazione ci sono i colleghi Marco Antonucci, Francesca Muzzi, Giovanna Belardi e c'è una rete di collaboratori sul territorio, la presenza dello sport. Ci sono investimenti in corso, c'è tanta determinazione di fare bene, di raccontare i fatti degli aretini. Abbiamo anche in questo periodo fatto questa nostra missione e adesso potremo farla ancora meglio. Anzi, tra l'altro colgo l'occasione per dire, abbiamo anche uno spazio che si chiama La Voce dei Lettori per il quale contattandoci ai numeri, alla mail che sono riportati nel quotidiano ogni cittadino di qualsiasi parte della provincia può contattarci per far presente storture, situazioni che devono essere migliorate. Noi ci faremo portavoce delle loro istanze. Allora buon lavoro perché insomma una voce in città non era mancata, ma era mancata fisicamente, è sempre simbolo insomma di democrazia. Sì, il pluralismo dell'informazione è un valore. Abbiamo avuto in questi giorni anche tanti messaggi da colleghi di qualsiasi testata per il bentornati in città e credo che questo sia una cosa importante per tutti.